Ragazzi buonasera, è super buio, c'è una luce buia che fa schifo, buonasera, ho le occhiaie, vabbè lasciamo perdere, voglio recensirvi in breve questo libro qua che mi è stato regalato, Una vita nuova, Fabio Volo, forse l'ultimo libro, uno degli ultimi, io non ce l'avevo, me l'hanno regalato appunto dopo Natale, ed è bellissimo, bellissimo, l'ho letto ieri, quattro ore, da mezzanotte alle tre, praticamente ho letto questo libro e l'ho bevuto, questo libro direttamente, clu clu clu, è andato giù come l'acqua, Fantastico, ho fatto anche un po' di pieghe, forse non bisognerebbe fare le pieghe ai libri, però è bellissimo, allora, a parte che ho tutti i libri di Fabio Volo, tutti, li ho forse tutti, credo di averli tutti, con questo qui, l'ultimo, il penultimo, ce li ho tutti, scusate lo smalto sbeccato, comunque, questo libro è bellissimo, bellissimo, ve lo leggo in breve, Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia, musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria, hanno una quarantina d'anni e una vita incagliata, Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale, Paolo, quindi Fabio Volo, è in crisi di coppia, di identità, di mezza età, o forse solamente bisogno di leggerezza, l'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 Spider rossa, il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per fare spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange, così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa, mentre risalgono dalla Puglia a Milano per prendere la macchina del padre di questo Paolo, Paolo e Andrea appunto parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici veri, l'amore, il lavoro, i genitori, eccetera, eccetera, quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano, si sgonfiano, alla luce di una leggera ironia, sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono, mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi, un viaggio che condurrà Paolo, quindi Fabio Volo, dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza, praticamente Fabio Volo appunto Paolo nel libro parla di suo padre che ha avuto, si è sposato ovviamente, ha avuto due figli, quindi Paolo e Nicola dovrebbe essere, nel libro il fratello di Paolo, Fabio Volo, questo padre ha avuto, per un sacco di anni ha avuto una spider rossa, una vecchia Fiat 850 spider rossa e da quando sono nati i figli l'ha dovuta vendere e Paolo appunto Fabio Volo, ripeterò 450 volte Paolo Fabio Volo, ha comprato la macchina da un rivenditore da un uomo della Puglia, un uomo pugliese, che lavora in un bar se non sbaglio, e ha fatto un viaggio con questo suo amico, Andrea, mi sembra, sì Andrea, Andrea e Paolo hanno fatto un viaggio, come c'è scritto, come vi ho detto prima, hanno fatto un viaggio per andare a prendere la macchina del padre di Paolo, perché questo padre appunto, il padre di Paolo, poi alla fine muore, ma prima di morire aveva questo sogno di riavere questa auto meravigliosa che ha avuto per almeno 30 anni o 40 di vita, insomma, ha avuto un sacco di esperienze, la trattava come se fosse una figlia questa macchina e quindi Paolo l'ha ricomprata, è andato fino in Puglia con questo suo amico Andrea, hanno avuto un sacco di avventure, un sacco di peripezie, un sacco di racconti anche, Paolo raccontava ad Andrea il suo passato, era sposato con Alice, aveva un figlio che si chiamava Tommaso, ma non andavano d'accordo lui e lei, quindi Paolo e Alice non andavano d'accordo, erano in crisi, in crisi, all'inizio era tutto bello, da fidanzati tutto bellissimo, da quando è andato Tommaso, appunto il figlio di Paolo e Alice, hanno avuto dei problemi di coppia questi due e Paolo finalmente si confida durante il viaggio con questo suo migliore amico Andrea e Andrea confida a Paolo che appunto era fidanzato forse, no forse solo fidanzato non sposato con Marina, la sua fidanzata, appunto la sua compagna e volevano un figlio, ma Paolo credeva di essere sterile, no Paolo, Andrea scusate, Andrea sembrava che fosse sterile, credeva di essere sterile e quindi era agitato perché non poteva dare un figlio alla sua compagna che lo voleva tanto, appunto Marina, la compagna di Andrea, sto facendo una confusione allucinante, non so con tutti questi nomi cosa avete capito di quello che ho detto, ma ve lo consiglio assolutamente, è spassosissimo, è bellissimo e poi soprattutto vi voglio leggere l'ultima frase, una delle ultime frasi, perché poi dopo il viaggio praticamente il padre di Paolo, quindi Fabio Volo, muore per un tumore, forse un cancro comunque, una malattia grave, insomma non mi ricordo, non voglio sparare cavolate, è bellissimo questo libro tutto, tutto, se ho fatto in fretta così velocemente, se ho fatto così in fretta a finirlo insomma è perché mi è piaciuto tantissimo e ve lo voglio leggere quello che c'è scritto anche all'inizio, all'inizio e alla fine parla di suo padre praticamente ed è bellissimo quello che dice, adesso ve lo leggo, andate a comprare questo libro perché è meraviglioso, io in quattro ore l'ho letto, veramente l'ho bevuto come fosse acqua, è un modo di dire ma è per farvi capire che mi è piaciuto tantissimo, è un po' struggente, un po' triste, fa capire il senso della vita, i genitori, questo Paolo che ha comprato la macchina per regalarla a suo padre, ma poi suo padre non l'ha, non se l'ha goduta, alla fine, all'inizio sì prima che è nascosto i figli, ma alla fine no perché ha avuto una malattia, comunque Paolo ha incontrato suo fratello, facendo questo viaggio in Puglia, il fratello gli ha raccontato che anche lui è separato con una figlia, Sonia mi sembra, o Stella o non mi ricordo, vabbè, non voglio dire nomi a caso, comunque il fratello di Paolo, appunto Fabio Volo, era separato anche con una figlia, separato dalla sua compagna, divorziato insomma con una figlia ed era felice, e allora Paolo ragionava, ragionava, cosa devo fare io con Alice, devo stare ancora con Alice, devo separarmi, devo lasciarmi, povero Tommaso, senza papà, senza madre, con i genitori separati eccetera, aveva mille paranoie e questo suo amico Andrea l'ha fatto un po' svegliare, gli ha detto vengo con te a fare il viaggio così non ti lascio andare in Puglia da solo, e hanno avuto un sacco di avventure, questo Andrea era un po' figlio dei fiori insomma, non era uno che si voleva impegnare poi tanto perché ne ha avute tante di donne prima di conoscere questa Marina, però voleva dare un figlio alla sua compagna, e alla fin fine lei è rimasta incinta, fortunatamente, quindi tutto è bene quel che finisce bene insomma. Hanno fatto anche un corso di yoga, una lezione di yoga, Andrea e Paolo, perché erano amici appunto e Andrea ha convinto Paolo, anche se era molto scettico, a fare una lezione di yoga, poi Paolo anche se era fidanzato con questa Alice, con cui aveva una crisi, ha praticamente baciato questa ragazza che insegnava yoga, mi sembra Gaia, se non ho sbaglio, o Ambra o Gaia, e si sono baciati, si sono innamorati, poi Paolo e Andrea sono tornati a Milano, dove c'era appunto Alice e Tommaso che aspettavano appunto Paolo tutti abbracciati, tutti felici, hanno vissuto una vita felice insomma, a parte il padre di Paolo appunto che è morto, ma nel libro racconta questo in breve, la storia è questa, un sacco di intrighi, un sacco di avvenimenti, un sacco di storie, un sacco di esperienze vissute tra questi due amici e anche tra fratelli, tra genitori e figli, insomma è una storia complicata, io non so spiegare, non so recensire i film, non so recensire i libri, non so recensire niente, comunque ve lo straconsiglio, provatelo, se l'avete letto, se vi piace, commentate, se non l'avete letto, se volete leggerlo, se magari è la prima volta che sentite parlare di Fabio Volo, io questi, tutti i libri di Fabio Volo, a parte questo, ma tutti in generale, ve li consiglio assolutamente, scusate la poca luce, ma se spengo la luce sono le 8 e non potevo fare video di giorno, anche perché oggi c'era la nebbia, non c'era il sole, quindi accendo la ring light, meno male che ce l'ho. Vi leggo quello che mi ha lasciato un po' la mano in bocca, insomma, un po' di tristezza, perché quando i genitori muoiono è sempre una cosa brutta, io fortunatamente li ho ancora vivi, vediamo quanto durano, comunque, all'inizio, alla fine ci sono queste frasi, alla fine del libro, all'inizio del libro, mio padre l'ho amato da subito, era il mio gigante buono, un giorno da bambino gli ho chiesto di volare per me, mi ha risposto che non sapeva farlo, ero convinto che si sbagliasse, nella vita poi ha preferito camminare lento, forse era il passo più adatto al suo sguardo triste, ai suoi occhi buoni, ai suoi silenzi, era fatto di silenzi che non sono mai riuscito a interpretare, mio padre era le cose che non diceva, mi sono chiesto più volte cosa non si fosse perdonato, si è tenuto tutto dentro, il dolore, la vita, le parole che volevo sentire. Di solito i genitori anni fa, insomma, i genitori che adesso hanno 80 anni, o 70 o 90, erano più duri coi figli rispetto ai genitori di oggi, del 2023 o 2024, insomma, no? era difficile parlare con i genitori di una volta, perché erano severi, erano duri, erano, non dico testardi perché non c'entra niente, però erano un po' tipo padre padrone, insomma, comando io in questa casa, comando io, eccetera, eccetera, e quindi era difficile parlare tra genitori e figli, adesso si può parlare con i genitori, chi li ha ancora vivi ovviamente, ma i genitori di oggi sono forse meglio rispetto ai genitori di una volta, secondo me, poi ditemi se sbaglio e io dico quello che penso. Spero che vi piaccia questo video, per fare un video diverso dal solito. La cosa di lui che ho amato di più è la dolcezza che teneva nascosta, quando sorrideva si squarciava al cielo come un arcobaleno dopo la pioggia e subito arrivava il pudore, bellissimo, ve lo straconsiglio, una vita nuova. Facendo un sacco di esperienze con il suo amico Paolo, ha capito che amava veramente Alice e soprattutto suo figlio Tommaso e quindi stanno ancora insieme, almeno così ho capito io. Da questo libro ho capito che alla fin fine, se uno è in crisi cerca, se ci tiene alla coppia, al matrimonio, in fidanzamento, in generale, a qualsiasi relazione, rimane, cerca di risolvere i problemi e rimane con la fidanzata o col fidanzato, insomma. Trova soluzione ai problemi e vanno avanti, si va avanti insieme. Perché una volta si ricuciva nei rapporti, invece di separarsi, di lasciarsi al primo litigio, si riappacificavano le persone, si risolvevano i problemi, si rompevano le cose, si dovevano aggiustare o almeno si aggiustavano, non si comprava qualcos'altro appena si rompeva magari un vaso, si doveva aggiustare, si aggiustava, si trovavano i pezzi per aggiustarlo, qualsiasi oggetto che si rompeva, non solo un vaso è un esempio. Questo è il libro, bellissimo, ve lo straconsiglio, ragazzi, scusate le mille ripetizioni, spero che vi sia piaciuto questo video. Commentate se l'avete letto, se vi piace, se volete leggerlo e consigliatemene altri. Voi li avete tutti, i libri di Fabio Volo vi piacciono? Questo autore mi piace tantissimo, fa anche il DJ, anche il libro e il film che si chiama Il giorno in più è bellissimo. Io credo di averli veramente tutti, i libri di Fabio Volo. A presto, ciao!